a fare un escape room io le facevo sempre con i miei amici divertentissime cioè se ce la facciamo a fare almeno un 20 per cento non lo so un escape room horror abbiamo scelto qui su milano quindi mi sa che ragazzi io mi sono appena svegliato come vedete c'ho ancora il pigiama e stavo per fare la doccia ma prima volevo condividere con voi i prodotti che sto utilizzando per preparare la mia pelle al primo sole che spero prenderò ovviamente presto innanzitutto partiamo con lo scrub lo scrub ragazzi è fondamentale prima di abbronzarsi perché ci aiuta a eliminare le cellule morte della nostra pelle avendo quindi una pelle più vellutata e prolunghiamo anche l'effetto della nostra abbronzatura io utilizzo questo qui di bella via l'avvocatore fresh body scrub che è realizzato con ingredienti naturali e oltre a scarabare idrata tantissimo perché contiene all'interno tantissimi oli e acidi grassi dopodiché dopo la doccia utilizzo spesso questo qui il vanilla glow body oil un olio che oltre a idratare contiene all'interno come vedete delle particelle dorate che danno un effetto abbronzato e super luminoso alla nostra pelle in qua ce l'ho fatta fare la doccia ho fatto anche questa maschera che amo come vedete l'ho finita dopo fare rifornimento e adesso vi faccio vedere quanto è bello questo olietto applicato sul decolleté vi lascio un codice sconto continuo a spalmarlo ovviamente anche dall'altro lato che è rosy scelta perché con una spesa minima di 59 euro potete scegliere 4 prodotti di bella via a vostra scelta guardate la differenza da qui a qui idrata illumina veramente bello tutto il sito fate swipe bacio guardate la differenza guardate la differenza ragazze io comunque sono giorni che sto male di nuovo con la cervicale con la schiena non chiudo occhio da un po' di giorni infatti si vede dalle mie occhiaie purtroppo non so veramente come trovare la soluzione oggi andrò da fisioterapista probabilmente perché devo necessariamente farmi curare questo problema perché so veramente tanto male tra l'altro Anna la custode dove sta Andrea mi ha fatto un massaggio con un prodotto straniero che dicono sia molto efficace vediamo se fa effetto io incrocio le dita grazie Anna perché non ce la faccio in più detto questo vi ricordo il codice sconto di Bella Via ragazze approfittate ci sono 4 regali a vostra scelta su tutto il sito ve lo scrivo qua e vi metto lo swipe up ci sentiamo più tardi vi faccio sapere se trovo il fisioterapista e se stasera starò meglio anche perché domani devo partire non ci sentiamo più tardi non ci sentiamo più tardi grazie a tutti 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 grazie a tutti